Ben trovati, anzi bentornati all'appuntamento con Dentro il Consiglio. Il nostro settimanale è la nostra finestra che si apre sui lavori del Consiglio regionale della Toscana. Ripartiamo da qui e ogni settimana saremo insieme per seguire davvero i lavori d'aula, ma facciamo uno stop anche noi nel senso di parlare del primo argomento su quelli che saranno, eccolo questo è il primo argomento, quelli che saranno le priorità per ciascun gruppo consigliare alla ripresa delle sedute d'aula e dei lavori delle varie commissioni. Faremo un focus anche sulla conferenza stampa di metà mandato, sulle attività della Commissione Aree Interne, il loro preziosissimo lavoro. Dunque, gentili telespettatori, dove eravamo rimasti? Eh sì, dovremmo davvero utilizzare questa terminologia per ripartire con il nostro programma, dopo che il Consiglio regionale si è fermato per la pausa estiva e con l'ultima seduta si sono concluse anche le riunioni delle varie commissioni. L'ultima seduta si è tenuta nei giorni martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 luglio. In quell'occasione abbiamo chiesto ai consiglieri quali fossero le priorità da affrontare alla ripresa dei lavori, visto che l'aula è stata convocata per martedì 12 e mercoledì 13 settembre. Ovviamente venire daremo conto nell'appuntamento della prossima settimana. E allora, adesso conosciamo quindi quali saranno, anzi quali sono, i temi più importanti per ciascun gruppo consigliare. Quindi da dove si riparte? Riapriremo con impegni altrettanto importanti. Uno tra tutti il piano dei rifiuti, che ha avuto un'importante gestazione nell'ambito della Commissione, che ha fatto un grande lavoro di audizione. A settembre ci troveremo ad affrontare questo tema e ad approvare il piano. Avremo poi la proposta per quanto riguarda la realizzazione di Toscana a strade, ma poi inizieremo anche a ragionare del prossimo bilancio, quello che riguarda il 24. Quando parliamo di bilancio sappiamo che tutti i temi sono toccati e quindi inizieremo a fare una verifica di quella che è l'attuazione della risoluzione che abbiamo approvato alla fine degli Stati Generali per quanto riguarda la sanità e avremo questo importante momento di confronto con la società toscana per vedere quello che sarà possibile allocare anche come risorse e quindi trasformare in progetti attraverso il bilancio per l'anno successivo. È evidente che superato il piano regionale di sviluppo un passaggio importante per la maggioranza riguarderà il piano dei rifiuti e non solo, sarà un settembre caldo, non soltanto climatico perché dovremo definire e avere coraggio. Noi abbiamo chiesto che il piano regionale dei rifiuti sia un piano di sviluppo economico, un piano di carattere industriale dove il rifiuto diventa un elemento e un valore per la Toscana, non si deve soltanto smaltire, non si deve soltanto riciclare ma si deve trasformare in energia, questa potrebbe essere una grandissima opportunità. Dentro il piano noi siamo disponibili a ragionare anche su un ambito unico regionale che possa fare di un fabbisogno unico regionale la possibilità di fare programmazione e quindi anche la localizzazione degli impianti diffusi su tutto il territorio regionale. La Toscana o pensa da Toscana in grande rispetto a questo grande tema o altrimenti perderà questa sfida, servirà a coraggio, servirà a capacità di assumersi responsabilità e di fare delle scelte. Noi siamo disponibili anche a una questione che in queste ore non si vorrebbe affrontare, cioè quella della localizzazione degli impianti. Serve dare risposte importanti non soltanto sulla termovalorizzazione, non soltanto sulla trasformazione del prodotto ma anche sul riutilizzo di aree come quella per esempio di Livorno che potrebbe essere ovviamente valorizzata dentro un percorso anche di riqualificazione e soprattutto di occupazione molto importante. Da settembre partirà in primis una discussione che è già iniziata in parte su quello che è proprio il piano dei rifiuti. Lo attendevamo da tempo e quindi su quello ci batteremo fortissimo perché appunto noi abbiamo una linea, una strategicità diversa su quelli che sono i servizi che la Toscana deve offrire ai propri cittadini e alle proprie imprese. Partiremo anche come centrodestra con una serie di proposte, tutto partirà con una conferenza, una delle prime conferenze programmatiche di centrodestra indetta proprio dai tre capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma non sarà l'unica perché da lì partirà un progetto condiviso con tutti i nostri sindaci della Toscana, i nostri parlamentari e i nostri coordinatori dove batteremo tantissimi temi dall'ambiente alle sanità, alle infrastrutture, alla cultura, alla scuola e allo sport perché da lì partiranno le nostre proposte per Toscana 2025. Siamo pronti per questa sfida, è una sfida che ci vede al Governo a livello nazionale e siamo sicuri che tra due anni e mezzo ci troverà anche al Governo di questa Regione. Abbiamo bisogno anche di far capire a tutti i cittadini toscani quelle che sono le nostre proposte non solo in Aula e in Consiglio regionale, ma inizieremo una serie di comunicazioni in tutte le province, batteremo tutti i territori insieme perché veramente ci crediamo, questa è la volta buona, noi siamo pronti, siamo uniti, abbiamo una strategicità veramente diversa di Toscana, siamo pronti insieme ai nostri ministri a dare un import diverso alle infrastrutture, un import diverso alle nostre aziende, a far sì che veramente la Toscana cambi passo per quello che merita. Poi ci sono, ci attendono anche altre importanti iniziative, altri appuntamenti elettorali che sono quelli delle amministrative e degli europei. Il centro-destra è pronto veramente a battersi per questa Regione, per tutti quei toscani che non credono più in un partito democratico, anzi in una maggioranza che forse non esiste più. Le priorità per settembre, per quanto ci riguarda, spero siano infrastrutture e lavoro. La Toscana oggi è stato proprio argomento di dibattito in aula in questi giorni sul PRS. Il Partito Democratico sbaglia perché considera oggi la Regione Toscana una regione attrattiva per chiunque voglia venirci a vivere o a investire. E questo è vero, perché oggi la Toscana è una regione attrattiva. Ma dobbiamo pensare che le nostre infrastrutture sono già scadenti e obsolete oggi e chi oggi viene a investire in Toscana lo fa in nome di quel brand toscana, di quella fama, di quella pill che la Toscana ha in tutto il mondo. Pensare a un futuro, noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra vent'anni. E siccome in vent'anni non si realizza nemmeno mezza infrastruttura con i ritmi della Toscana e dell'Italia, perché ieri il Presidente Gianni ha parlato di godimento nel vedere partire la talpa dell'alta velocità a Firenze, la talpa doveva partire 17 anni fa. Quindi questi sono i ritmi delle costruzioni delle infrastrutture in Toscana. E allora se noi non mettiamo mano alle infrastrutture, oggi forse siamo attrattivi, ma tra vent'anni non lo saremo più per nessuno. E noi dobbiamo pensare a quello che succede tra vent'anni, non a quello che succede oggi. Quindi primo tema. E il secondo spero sia una Toscana un po' più unita, nel senso connessa. Ne abbiamo parlato in aula. Io mi auguro che a settembre parta questa sfida. Oggi ci sono più di 40 comuni in Toscana, 40 comuni in Toscana in cui non esiste il segnale cellulare, in cui non esiste una copertura internet. E questo non significa che i bambini di quei comuni non possono giocare ai videogiochi sull'iPad. Questo significa che una giovane coppia che deve scegliere dove comprare casa, tra scegliere di comprarla in un comune A, dove c'è un segnale cellulare, o scegliere di comprare un comune B, dove questo segnale non c'è, sapendo e avendo imparato sulla nostra pelle che sempre più spesso si potrà ricorrere allo smart working, al lavoro da casa, alla videoconferenza. Non la compra la casa dove non c'è un segnale di copertura internet. Un'azienda che deve aprire un nuovo capannone non lo fa in un comune dove non c'è la fibra, perché è fuori dal mondo, perché parte già non competitiva prima ancora di aprire. E avere 40 comuni e una porzione enorme di territorio, soprattutto nel nord-ovest della regione, ancora non coperta dalle infrastrutture digitali, è un gap che la Toscana paga in maniera enorme nei confronti alle altre grandi regioni del nord e che ti avvicina purtroppo alle regioni del sud Italia, anziché competere con quelle del nord. E questo è un tema. Il Presidente Gianni ci ha lanciato la sfida, ha detto che entro la fine della legislatura avrà colmato questo gap digitale e lo aspettiamo al VAR. Io mi auguro di dargli ragione, lo dico prima. Da settembre sarà fondamentale ricominciare il lavoro da dove è stato lasciato, e mi sento proprio di dire così, lasciato da questa giunta, cioè da quelle che sono le ambizioni messe su carta del PRS e del DEFR e che per essere implementate hanno bisogno di un deciso cambio di rotta. Ci sono tanti aspetti per combattere le disuguaglianze, tutte le questioni che riguardano l'inizia residenziale pubblica, la tutela del lavoro, la bonifica dei siti, l'ambiente, il ripristinare alcune leggi e soprattutto alcuni limiti che mettevano dei paletti all'utilizzo del suolo. Tanti aspetti, tra i quali anche il lavoro per la multiutility, anzi contro questa multiutility e contro progetti scelerati come la terza torre di Novoli, inaudita in un momento come questo, e progetti anche come quelli che riguardano la tutela dell'ambiente, della qualità delle acque, le comunità energetiche. Molti temi di cui questa giunta vorrebbe appropriarsi o lo fa sulla carta ma che in realtà non riesce a implementare, che sono stati portati avanti a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle e che continuiamo anche a portare avanti a livello territoriale per la tutela di coloro che combattono contro le disuguaglianze e contro una Toscana che sia più equa, più giusta veramente, non a due o tre velocità come purtroppo ci ha condannato a essere questa giunta. E dopo le priorità per i vari gruppi consigliari parliamo della Commissione Aria Interna, l'istituzione della Commissione, anzi Commissione Istituzionale per il Sostegno, la Valorizzazione e la Promozione delle Aree Interne della Toscana. Bene, ha rappresentato una delle più importanti e significative novità della legislatura in corso. L'idea, cioè il valore intorno al quale ruota la necessità di questo organismo è frutto di una riflessione puntuale che verte sulle diversità del territorio toscano e quindi sulla necessità di favorire al massimo lo sviluppo in maniera equilibrata fra le varie zone della nostra regione. E quindi in conferenza stampa è stato illustrato anche il lavoro svolto dalla Commissione che per brevità chiameremo e abbiamo chiamato Commissione Aree Interne, un rapporto dell'attività 2021-2023. È la prima esperienza in Italia di una Commissione sulle aree interne in Consiglio regionale e questi due anni e mezzo ci hanno visto lavorare su tante questioni e soprattutto raggiungere alcuni obiettivi importanti. Il primo, prima di tutto, è quello della riserva del 30% che abbiamo introdotto sui fondi europei che sono a disposizione della Toscana fino al 2027. Noi con la riserva del 30% mettiamo in campo 900 milioni di euro di sostegno agli investimenti per le imprese, per i comuni e per le realtà site nei comuni delle aree interne. Altro importante provvedimento è stata la legge sui custodi della montagna che ci ha visto sostenere concretamente più di 400 imprese che operando in questi territori svolgono un presidio sociale ed economico fondamentale. Altra questione molto rilevante su cui ci stiamo adoperando e che vedrà nei prossimi mesi la partenza, abbiamo voluto vincolare una serie di risorse dei fondi europei sul sostegno al manifatturiero in questi territori. Le aree interne non sono solo borghi e luoghi da cartolina, sono luoghi dove si crea ricchezza e dove c'è una qualità della vita che ha livelli molto importanti. Occorre però fare in modo che oltre alla retorica dei borghi ci siano una lettura di questi territori come luoghi dove si crea occupazione. Ecco perché con il sostegno al manifatturiero noi vogliamo riadattare e riorientare il futuro di questi territori non solo sul turismo e sull'agricoltura ma anche su un ritorno dell'attività manifatturiera che può svolgere una funzione fondamentale. La commissione aree interne è una realtà concreta che è arrivata ormai a metà mandato e che ha fatto passi avanti per cercare di aiutare nello sviluppo queste aree. Ci siamo interfacciati con i vari assessori, abbiamo cercato anche tramite molte audizioni di capire quelli che sono i problemi, problemi di infrastrutture, problemi di sanità perché spesso in queste aree mancano i servizi. Ci sono aree che tra l'altro danno anche un grosso contributo anche alle aree più vicine. Faccio un esempio, ci siamo interessati per esempio di un'indennità per i comuni sorgivi che poi sono i comuni delle aree interne ma che danno acqua in qualche modo a tutti. Abbiamo fatto proposte di risoluzione, già alcune vi sono state dette e come aree interne ci siamo interessati anche di quelle aree interne particolari che sono appunto le isole del nostro arcipelago toscano che vivono un essere geograficamente separate dal resto della Toscana. Questo corrisponde a quello che è stato il nostro mandato di una toscana più coesa e credo che comunque ci siano dei valori all'interno di queste aree interne e sto pensando al valore della comunità che spesso in queste aree diciamo ancora esiste ed è un qualcosa da un messaggio che dobbiamo prendere e portare con noi per migliorare quelli che sono i rapporti proprio tra le persone. La commissione aree interne è una delle novità più significative di questa legislatura è un lavoro importante portato avanti dal presidente Nicolai, portato avanti da tutti i membri della commissione un lavoro fatto di ascolto, di presenza sul territorio e di risultati concreti perché in questi anni, due anni di lavoro i risultati sono stati tanti le risorse destinate alle aree interne sono state significative e importanti e non nascono mai a caso. Sono frutto di un lavoro, di un lavoro serio, paziente di tessitura e un lavoro importante che rende la Toscana più vicina, più unita lo dico anche ricordando il lavoro che io nella precedente legislatura feci per la commissione Costa alzare la questione, l'attenzione sulla necessità di recuperare il divario che esiste tra le aree interne, le aree costiere o le aree più marginali, le aree interne e quelle insulari è uno dei compiti che noi dobbiamo portare avanti. E si conclude anche l'appuntamento con Dentro il Consiglio vi ricordo per tutte le informazioni c'è il sito internet www.inconsiglio.it io vi aspetto come sempre tra sette giorni, qua, dentro il Consiglio www.inconsiglio.it